Uso responsabile del denaro è il tema del concorso per le scuole medie superiori piemontesi che l'osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, cui è delegato il consigliere segretario Tullio Ponso, ha deliberato di bandire per l'anno scolastico 2012-2013. Gli studenti dovranno presentare un elaborato scritto o un prodotto multimediale su una delle tracce a scelta che verranno preparate da un comitato esecutivo.